bene amici vi ricordate qualche mese fa titoloni su draghi cancella questo quello multe bollo auto maxi condono i mutari eccetera eccetera beh alla fine sappiamo che è successo davvero un condono per alleggerire l'attività di riscossione dell'agenzia delle entrate e che va a toccare appunto anche debiti quali bolli auto e le multe vediamo quindi alla luce anche del recentissimo decreto attuativo del mef tempi e modi per accedere alla cancellazione di questi debiti e soprattutto come controllare se si è in possesso dei requisiti io sono mister lull adesso vi spiego tutto quindi sigla prima like iscrizione campanone condivisione se volete sostenere il canale beh c'è anche il tasto abbonamentone partiamo quindi 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 anche le cartelle relative ai debiti automobilistici sono incluse nella sanatoria draghi un condono di cui abbiamo ampiamente parlato negli scorsi mesi a qualcuno tra l'altro non piace chiamarlo condono anche se il premier stesso l'ha definito col suo nome anzi io direi che abbiamo a che fare più con un condonino infatti questa ennesima sanatoria della nostra storia prevede di fare tabula rasa dei debiti scritti a ruolo fino a 5.000 euro e nel periodo che va dal 2000 al 2010 ma ma c'è un altro paletto potranno beneficiarne sia persone fisiche che imprese diciamo con reddito 2019 entro i 30.000 euro potenzialmente quindi in questo colpetto di spugna vanno a ritrovarsi anche bolli super bolli multe ma certamente c'è un altro ma non tutte le multe infatti sono escluse quelle irrogate a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna comunque come aderire a questa sanatoria facile facile molto facile non bisogna fare assolutamente nulla semplicemente bisogna aspettare sarà infatti compito dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle entrate riscossioni verificare i requisiti e poi cancellare in automatico i ruoli procedura che andrà a concludersi entro la fine di ottobre secondo quella che è la timeline prevista proprio dal decreto attuativo del mef qualcosa però nel frattempo si può fare e come che cosa beh verificare la propria posizione debitoria accedendo a quello che è il servizio dedicato online messo a disposizione dall'agenzia delle entrate nella nostra area personale basto ovviamente avere lo speed la carta d'identità elettronica oppure la carta nazionale dei servizi o ancora per un po il buon vecchio pin a fermi tutti fermi tutti ovviamente chi ha regolarmente pagato tutte le sue multe i suoi bolli e quant'altro beh se la prende ovviamente in saccoccia infatti non sono previsti rimborsi ma questo non dovrebbe stupirci e detto questo video flash io vi aspetto domani con una chicca se il video è stato comunque utile interessante mi raccomando like iscrizione col campanone per non perdere anche questo tipo di contenuti e se volete sostenere il canale c'è anche il tasto abbonamentone alla prossima grazie da mister lull grazie a tutti grazie a tutti